Che c'è? Da quanto tempo sei qua tu? Da stamattina all'alba, perché? E non hai visto passare una ragazza bellissima con degli occhi azzurri che danno un po' sul verde? Tipo nuvole, nel cielo contrastato nel mese di marzo. Tipo nuvole, nel cielo contrastato di marzo. Di cui io sono innamorato pazzo, scrive. Di cui io sono innamorato pazzo. Pazzo con due z. Pazzo con due z. Ma ne pare il modo di fermarsi così bloccando il traffico? No. E allora vada via. Ma l'hai visto o no? Se ne vada. L'hai visto o no? Quella con gli occhi contrastati del mese di marzo? Sì. No, vada via. E allora potevi dirlo prima, no?